Giulia Nova si prepara a voltare pagina con l'avvio nei prossimi mesi del cantiere dell'ex mercato coperto, un progetto di riqualificazione urbana che promette di trasformare il volto della città costiera. Dopo un'attesa di oltre tre decenni, il primo cittadino Ivan Costantini ha annunciato l'inizio di una nuova era per l'area, con la creazione di una City Life in miniatura. Era uno dei punti del nostro programma e possiamo dire che nonostante i due anni persi con il Covid siamo riusciti non solo a intercettare i fondi del PNRR ma anche ad appaltare i lavori che sono appaltati. Il progetto definitivo è stato mandato 30 giorni fa alla sovintendenza, aspettiamo il parere della sovintendenza e poi faremo la cerimonia di affidamento dei lavori perché questa amministrazione, quello che aveva promesso in campagna elettorale, lo ha fatto. E quindi siamo veramente contenti che si riporti l'attenzione sul mercato coperto che era diventata una zona negli ultimi 30 anni di assoluto degrado. Noi invece riqualificheremo quella zona e diventerà l'anello di congiunzione tra Giulianova Paese e Giulianova Lido. Anello di congiunzione che qualora i cittadini ci ridaranno la fiducia per i prossimi 5 anni vedrà anche un collegamento meccanico che dalla stessa piazza del mercato coperto arriverà fino in centro storico. Il progetto che mira a rivitalizzare uno spazio urbano lasciato in abbandono e ha anche una risposta decisa contro il degrado e la criminalità. La zona, nota per essere un punto di spaccio, sarà completamente rinnovata dando vita a un centro pulsante di attività commerciali, culturali e sociali. Diciamo che il mercato coperto era diventato una piazza di spaccio a cielo aperto, c'erano tantissimi farmaci, siringhe. La cosa che faceva male è che le precedenti amministrazioni avevano completamente abbandonato quell'area quindi non c'erano progetti di riqualificazione. Noi però abbiamo le nostre responsabilità, non voglio usare il Covid come giustificazione ma noi per due anni abbiamo dovuto pensare ad altro e quindi non ci siamo potuti dedicare nella ristrutturazione di parti nevralgiche della nostra città però oggi poter dire che i lavori sono stati appaltati al mercato coperto fa tirare un sospiro di sollievo a tante famiglie che hanno tanti ragazzi giovani che potevano vedere quella come una zona di degrado e di spaccio.